Bella ragazzi, qui è il Cina e oggi siamo qui, come potete vedere con un nuovo episodio del Rottucina Team Avete davanti la nuova squadra del Rottucina Team Dopo più o meno 17 episodi siamo qui e abbiamo costruito una squadra Overbug Infatti si chiama Bug01 Ho venduto tutti la casette così perché non è che mi piacevano tanto, eh, sinceramente Giochichiavano, ma non lo so, erano pesanti, lerci e quindi praticamente ho optato per questa squadra Non ha intesa 100 perché c'è questo qua, Quero, che non fa tanto intesa con appunto il nostro Conco È una ibrida, qui ci dovrebbe stare Quadrado però appunto purtroppo non abbiamo abbastanza crediti Sono riuscito a prendere Ames Rodriguez a 7000 circa Tutti gli altri giocatori che vedete li ho presi all'asta a prezzi appunto stracciati Tra cui il nostro Arizala che abbiamo trovato il fenomeno Cristiano Ronaldo dei poveri E poi abbiamo il nostro Victory Barbo in attacco, bug assurdo Uno dei nostri obiettivi appunto sarà il TS che abbiamo Biraghi che non è male come statistiche Ma c'è Pablo Armero che è molto forte ma costa troppo Non so se Armero e Abate riuscirò a prenderli in questa squadra Comunque spero vi piaccia, adesso iniziamo subito, oggi farò due partite E lasciate un bellissimo like Grazie mille inoltre per aver raggiunto i 10.000 like nel video del pack opening con mia nonna Quindi vi ringrazio, adesso andiamo subito a prendere le stagioni Siamo in quinta divisione Eccoci qui, 83 valutazione, 98 intesa Cavani Starridge 4-4-2, modulo normalissimo Un po' messi a caso, però vabbè fa niente, potrebbe farmi il culo benissimo Ecco si inizia a piove, io premetto che oggi ho un pochettino l'influenza Quindi non so se vedete anche dai miei occhi, sono un po' rossi Però fa niente, facciamo questo video lo stesso, non mi fermerà mai nessuno Unstoppable Oddio Burbano Mamma mia Corri Victor Corri Victor C'è dentro, Arizzala, Arizzala No Ma come fai a sbagliarla così, Arizzala Ma non si può sbagliare così, dai Eh, Cristiano Ronaldo, su Eh, mamma mia che partita di merda Dai che lo vedi di là Oddio non è fuori gioco, non è fuori gioco Arizzala, 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 Arizzala Arizzala, entra in porta Mamma mia Cristiano Ronaldo dei poveri Mamma mia Cristiano Ronaldo dei poveri Guarda, guarda, guarda che due pirla che fanno Giorgio, Giorgio Mamma mia che difesa, è impenetrabile Arizzala, lo vedono, lo vedono Si allunga il pallone, mamma mia quanto è veloce Quanto è veloce ragazzi, Arizzala Entrate Io non capisco perché non tira e se l'allunga così quando deve tirare Corri Victor Vedi Arizzala Cristiano Ronaldo Mamma mia I trick I trick I trick, se ne va Se ne va Orco cane Orco cane Ah, Arizzala 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 David Luiz Sei più veloce di tutti gli altri Sei più veloce di tutti gli altri No palo, no Autogol Autogol Ma che Ragazzi Ma che cazzo ha fatto Ma che è sta roba Guarda che adesso non gioca più Guarda che adesso non gioca più Sto schifoso Attenzione Quero Quero Non giochi E allora io ti faccio gol Mi dispiace Senza pietà Cioè ragazzi Guardate Cosa siamo stati a fare Tutta la partita Per colpa di questa gente Che non sa Cioè Non riesce a perdere Quindi fa queste cose Apposta Adesso gli ho fatto Due gol in più di quelli che Cioè Gli avevo fatto veramente Quando giocava Non sono andato avanti Però cavoli Ragazzi Mamma mia Oh sono rimasto qui tipo Quanto 25 minuti ragazzi 25 Mamma mia Non si può Che poi al tetutto Passa anche Più lentamente il tempo Quando non fai niente Su una partita di FIFA 85 valutazioni A questo punto Ve ne devo fare altre due Perché Mamma mia Siamo crepati ragazzi Qua Però Benzema Cicci Non si può vedere No no Mantenete le posizioni Ragazzi Ma che cazzo Chi è che ha fatto gol Jordi Alba Eh ma che cazzo Dai Ma era fallo quello Oh cazzo Quanto corrono Quanto corrono Raga Quanto corrono Cioè Corrono troppo Sono troppo Forti Questi Come facciamo Come facciamo Già 2 a 0 Già 2 a 0 Oggi mi va proprio Di sfiga Tutto quanto Di sfiga Di rogna Cazzo di Neymar Che parte Come un Porco Ma come cazzo Eh si Poi gli sto perfetti Madonna Tira una botta E i difensori Cadono tutti quanti Subito per Alida Mamma mia Che aggancio Entra dentro In area Madonna Solo perché C'ha Neuer Cazzo Solo perché C'ha Neuer Neymar Oddio Victor Oddio Victor Che cazzo Ha Fatto Qui ha fatto Una merdata Perché infatti Si è buggato Tutto Ma lo sapevo Che da questo bug Arrivava il gol Lo sapevo Che da questo bug Arrivava una botta Ma come fa Ad avere Sto tiro Ragazzi È illegale Cioè Victor È illegale Meglio di Bayle Su Arez Cazzo Barzagli Ma vaffanculo Sì certo Ma Lione Arizala 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 Ok ci possiamo Ancora credere Ci possiamo Ancora credere Pallonetto Su Neuer Mamma mia Nuovo Cristiano Ronaldo Guarda come parte Guarda come parte Bellissimo Questo pallonetto Neuer Beffato Si esci Continua a uscire Scemo 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 Oddio Arizala È il novantesimo Ragazzi È il novantesimo Possiamo crederci In un calcio d'angolo In un calcio d'angolo Ti prego Ti prego Ti prego Pum No È finita Abbiamo lottato Abbiamo lottato Con tutte Con tutte le nostre Forze Salvatore Salvatore Tornatene in porta Pirlone Fai battere Ames Che cazzo Vai Chiellini Voglio il tiro Di Chiellini Guarin Madonna Guarin Vai con Co Stacca Alla Cristiano Ronaldo Stacca ragazzi Tacci sua Raga Non è possibile Non è possibile Ha fatto gol Quello che ha fatto Appena entrare Era fuori gioco Questo Quanto era veloce Basta Dopo questa Mi ritiro Mi ritiro Ragazzi È finita Ma ti pare Che facciamo Una cosa del genere Uno a uno Contro sta squadra Quindi ragazzi Il Barbo Si è infortunato Barzali Non ha più il contratto Sta squadra Per adesso Vabbè Sarà perché Veramente Ho la febbre E adesso si fa sentire Pure Sono pure tutto sudato E non lo so Sento calore Quindi praticamente Niente Mi dispiace Che questo video Sia andato Un po' così così Ma purtroppo Io ve lo volevo Portare lo stesso Per farvi vedere La squadra Ma non sto tanto bene Quindi Lasciate un like Per il supporto Ragazzi Sotto in descrizione È scritto Onefiva.com Noi ci vediamo sabato Con la squadra Sbustata Spero di stare Un po' meglio Ragazzi Quindi un saluto E bella Blalalalalala Grazie a tutti Anche a tutti Grazie.